La sua colpa sarebbe stata quella di avere una relazione con la moglie di un 31enne nigeriano. Quest'ultimo più volte lo avrebbe minacciato di morte, poi qualcosa si è rotto e il contenzioso tra i due sarebbe sfociato in qualcosa di diverso da quanto si potrebbe pensare. Il 31enne avrebbe infatti ucciso e seppellito il fratello dell'amante in un campo di Villa Franca. Solo un aratro che passava di lì la notte di Halloween il 31 ottobre scorso ha portato a galla le prove della morte del 23enne. Grazie al DNA delle ossa ritrovate nel campo i carabinieri di Villa Franca con il supporto del nucleo investigativo di Verona sono arrivati al presunto colpevole. Un 31enne nigeriano fermato giovedì all'aeroporto di Malpensa è arrestato con l'accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere.